Musica Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6 La segretaria della CISL, Anna Maria Furlan, questo pomeriggio è arrivata a Montesilvano per partecipare alla tre giorni del patronato Inas il focus sul welfare e sul ruolo dei patronati ma il segretario ha toccato anche temi nazionali tra cui le pensioni Anna Maria Furlan, segretario della CISL è arrivata in Abruzzo per discutere di welfare nella tre giorni intitolata Mettere in agenda il futuro organizzata dal patronato Inas della CISL e proprio sul ruolo importante svolto dai patronati come servizio ai cittadini si è soffermata la Furlan che ha richiamato il governo Renzi a non continuare a tagliare in questo settore è un servizio che si offre ogni cittadino e ogni cittadina davvero di alta qualità ogni anno però nelle finanziarie noi discutiamo di tagli al patronato credo che sia ora invece di fare un confronto serio su come anche qua introdurre elementi di innovazione e certificare la qualità Parlando di welfare non si può non citare il tema pensioni argomento caldo nell'ambito delle riforme proprio i sindacati sono scesi in piazza contro la legge Fornero questa la posizione della CISL Noi abbiamo detto al governo con chiarezza che vogliamo che già nella legge finanziaria ci siano significativi segnali di un cambio di rotta in un paese dove oltre il 40% dei giovani è disoccupato a questo sommiamo i tanti giovani che sono precari nel lavoro è ovvio che non possiamo tenere inchiodati sui posti di lavoro fino a 66-67 anni lavoratori e lavoratrici Poi uno sguardo all'Abruzzo per crescere dice Anna Maria Furlan così come nel resto d'Italia serve innovazione Questa è una regione che nel tempo ha davvero accumulato anche modelli di eccellenza e bisogna puntare sull'innovazione anche qua come in tutto il paese quindi gli investimenti sulla produzione, sulle infrastrutture, su innovazione, su ricerca, su formazione sono indispensabili per la crescita del paese e nel paese anche dell'Abruzzo Il Consiglio regionale in tarda ora ha approvato il provvedimento per il salvataggio dell'ISA l'Istituto Sinfonico Abruzzese fondi però anche per le altre istituzioni culturali d'Abruzzo il servizio di Giorgio Alessandri e poi ascoltiamo l'intervista al consigliere regionale del Partito Democratico Luciano Monticelli realizzata da Alfredo Primante Dopo una lunga maratona in Consiglio regionale è arrivato all'approvazione finale uno dei provvedimenti che ha fatto più discutere nelle ultime settimane creando non pochi problemi all'interno della maggioranza ovvero quello relativo allo stanziamento dei fondi per il salvataggio dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese risorse che consentiranno all'ISA di proseguire nella sua attività e che al contempo hanno aperto ad una guerra aperta tra maggioranza ed opposizioni che si è conclusa con una soluzione salomonica quasi da manuale Cancelli soldi un po' a tutti quegli enti che hanno dei referenti all'emiciclo oltre che all'ISA infatti sono state garantite risorse anche all'Istituto Braga di Teramo il Teatro Marucino di Chieti, il Teatro dei Marsi di Avezzano, il Teatro Fenaroli di Lanciano l'ente manifestazioni pescaresi, il Premio Falaiano, la Fondazione Michetti, la Brigata Maiella la Giostra Cavalleresca di Sulmona ed il Mastro Giurato di Lanciano tutti contenti o quasi da 5 Stelle infatti piovono strali tanto nei confronti della maggioranza quanto in quelli del centrodestra non possiamo permettere che i partiti si spartiscano i fondi per la cultura con il ricatto del salvataggio dell'ISA ha donato il pentastellato Ranieri ci sono migliaia di realtà culturali abruzzesi valide che però non hanno appoggio politico e navigano nell'impossibilità di implementare o di svolgere la loro attività sul territorio l'ISA è sicuramente una risorsa ma lo sono anche le altre realtà non solo cultura però in consiglio regionale dove è stata approvata la legge di riordino delle funzioni attribuite alle province in base alla nuova norma tornano di competenza regionale tra le altre le funzioni di valorizzazione dei beni culturali agricoltura, difesa del suolo, vigilanza urbanistica e turismo previsti inoltre tavoli bilaterali con le amministrazioni provinciali per discutere del trasferimento del personale al netto dei pensionamenti e delle unità per le quali i comuni hanno dato la disponibilità ad assorbire Monticelli ieri si è andato avanti fino a tardanotte però alla fine insomma i ribelli hanno avuto ragione ma io non direi più ormai i ribelli perché credo che la nostra battaglia fatta è stata poi capita da tutti in quanto non parlavamo solamente di una variazione di bilancio un provvedimento di regge che guardava solamente a una così importante istituzione ma che guardava un po' a tutta la realtà bruzzese quanto è stata difficile questa battaglia politica? è stata difficile dall'11 agosto quando abbiamo deciso io il collega Gerosonimo Olivieri di fermarci un attimo ne abbiamo passato anche non era stato capito e naturalmente anche il mio partito ha avuto da ridire però poi con con le discussioni fatte con il fatto che ci siamo incontrati più volte e devo dire la soddisfazione di sera di finanziare l'ISASI ma anche di finanziare tutte quelle leggi regionali mi faccio riferimento al Michetti al Lanciano a tante manifestazioni e poi anche al Braga di cui abbiamo voluto da 90 mila portati poi a 150 mila euro per il mantenimento fino all'arrivo della statalizzazione nel 2017 e qui è stato fatto un ottimo lavoro nelle commissioni anche con il supporto delle minoranze voglio ringraziare anche loro il Movimento 5SL il centro-destra e adesso ci apprezziamo a fare questo regolamento che è dettato dalla 46 del 2014 di cui si chiede un osservatorio sulla cultura un piano triennale sulla cultura e crea un movimento notevole di lavoro i service palchisti strumentisti torunisti chi anche stampa il manifesto c'è un giro incredibile e noi dobbiamo fare molta attenzione e ripeto li stiamo incontrando il venerdì e ogni venerdì facciamo questo focus sulla cultura e speriamo nel mese di dicembre e gennaio di fare una a due giorni degli stati generali della cultura per raccogliere tante esperienze bellissime che sono in Abruzzo fuori programma a Bruxelles per il presidente della regione Luciano D'Alfonso che ha incontrato l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Federica Moderini Chiara Morelli Un invito a visitare l'Aquila è quello che il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso ha rivolto a Federica Mogherini vicepresidente della Commissione Europea e alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri Chissà che D'Alfonso non voglia riaccendere i riflettori sull'Aquila dopo la visita a Lampo del premier Renzi che tutti ricorderanno essere terminata tra tafferuglie e contestazioni Certo è che Federica Mogherini ha manifestato grande interesse e la sua disponibilità al governatore D'Alfonso Il veloce scambio di battute si è tenuto tra i due a Bruxelles al termine della sessione plenaria del Comitato delle Regioni in cui Federica Mogherini è intervenuta per discutere sul ruolo degli enti locali e regionali nel quadro dell'azione esterna dell'Unione Europea Affari da cornice la tredicesima edizione degli Open Days l'evento annuale che vede la partecipazione di oltre 6.000 stakeholders in 140 workshop attraverso i quali il Comitato delle Regioni e la DG Regio coinvolgono regioni e città nelle iniziative legislative dell'Unione Europea assicurando loro la funzione di organo consultivo un ruolo che il presidente D'Alfonso avrà modo di giocarsi al meglio giovedì mattina intervenendo all'evento conclusivo degli Open Days per discutere di occupazione e crescita attraverso la strategia della macro-regione adriatico-ionica ancora una volta alla presenza di Federica Mogherini e chissà che D'Alfonso questa volta non riesca a costruire un ponte tra l'Aquila e Bruxelles ed ora passiamo alla cronaca un uomo di Castelfrentano nel Chietino Franco Caporale 55 anni è morto per un malore mentre era al volante della sua auto lungo la statale 84 alle porte di Lanciano in località marcianese la smart nera che stava guidando si è accostata nel senso posto di marcia dalla quale proveniva sul posto i carabinieri di Lanciano e Castelfrentano il personale del 118 che ha solo potuto constatare il decesso del 55enne residente a Castelfrentano in contrada Clementi la causa della morte è naturale secondo gli inquirenti è probabile che a stroncare l'uomo sia stato un infarto il segretario generale del comune di L'Aquila Carlo Pirozzolo è stato sospeso dalle sue funzioni dopo il provvedimento del GIP in merito all'inchiesta sul concorso da direttore all'ex hobby Giorgio Alessandri nuovi siluffi nell'inchiesta della procura dell'Aquila sulle presunte irregolarità per il concorso da direttore presso il centro servizi anziani il giudice per le indagini preliminari del tribunale dell'Aquila Guendalina Buccella ha emesso la misura cautelare della sospensione dal servizio nei confronti del segretario generale del comune Carlo Pirozzolo un provvedimento emesso per la responsabilità emerse durante l'inchiesta dal quale emergerebbe il tentativo di condizionare il concorso a favore della dirigente comunale Patrizia del Principe già sospesa dal pubblico servizio dei giorni scorsi a favore della quale sarebbe stato confezionato il bando di concorso indetto dal comune nel 2014 per la copertura del posto di direttore dell'exompi concorso che comunque non fu poi vinto dalla del Principe nonostante fosse l'unica candidata al segretario generale del comune è contestato il reato di turbata libertà di scelta del contraente in un bando di gara la del Principe inoltre è coinvolta in un altro filone dell'inchiesta sempre relativo all'exompi con l'accusa di aver percepito denaro da un imprenditore dei traslochi in cambio di incarichi diretti sempre sul centro servizi anziani il dirigente dell'avvocatura Domenico De Nardis ricoprirà ad interim come già accaduto finora il ruolo di segretario generale pronto il ricorso dell'avvocato del segretario Pirozzolo Carlo Benedetti che al contempo è anche presidente del consiglio comunale che non ha commentato la decisione del giudice annunciando l'intenzione di impugnare il provvedimento in tempi rapidi La Corte dei Conti ha assolto il sindaco Cialente la senatrice Pezzopane l'intera giunta del 2010 dall'accusa di danno erariale nell'ambito dell'inchiesta sull'affidamento dei servizi delle menze scolastiche Daniela Rosone La vicenda del procedimento sull'affidamento e la gestione del servizio delle menze scolastiche si chiude con l'assoluzione del sindaco Massimo Cialente della senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane La Corte dei Conti infatti li ha assolti assieme all'intera giunta in carica nel 2010 dall'accusa di danno erariale l'inchiesta era partita da un esposto presentato nel 2012 dall'avvocato Fausto Corti sotto la lente di ingrandimento una delibera del 2010 con la quale il Comune aveva consentito alla ditta vivenda S.P.A. di aumentare ogni passo di circa un euro più IVA un aumento che secondo l'accusa aveva prodotto un danno erariale di 454 mila euro la vivenda giustificò tale aumento dicendo che si era passati dal servizio di minorazione a quello di scodellamento dei pasti nello stesso procedimento erano chiamati a rispondere di danno erariale oltre al sindaco alla Pezzopane anche gli assessori Gian Paolo Arduini Marco Fanfani Armando Lisi Giuliano Lalli e Roberto Riga l'equivoco di fondo in cui la procura è un corso si legge nelle motivazioni che avrebbe legittimato la richiesta risarcitoria è che nel contratto originario fosse compresa anche l'attività di scodellamento o servizio agli alunni e al personale fruitore dei pasti mentre risulta agli atti come nessuna attività del genere rientrasse nelle mansioni della società aggiudicataria che a riguardo non percepiva alcun compenso la procura non ha dimostrato quindi la presenza sul territorio a parità di condizioni di prezzi inferiori per lo svolgimento del servizio ai tavoli che avrebbe provato il danno derivante dalla differenza tra il prezzo pagato alla ditta giudicatrice e quello prospettato da altri fornitori ma le successive aggiudicazioni si legge sempre nelle motivazioni hanno dimostrato l'esatto contrario ovvero l'indisponibilità di altre ditte allo svolgimento del servizio l'avvocato Fausto Corti nello stesso procedimento rappresentava una ditta esclusa dall'appalto secondo giorno di protesta a Pescara da parte degli studenti dell'istituto alberghiero De Cecco chiedono garanzie sulla sede unica quindi sì ad una nuova sede dicono ma che sia a Pescara Francesca Romanatesti non hanno intenzione di sospendere la loro protesta gli studenti dell'istituto alberghiero di Pescara per il secondo giorno presiedono davanti al palazzo della provincia manifestando la loro contrarietà al progetto di realizzare una nuova sede situata a Cepagatti vogliamo l'alberghiero De Cecco di Pescara e vogliamo tornare in un'unica struttura quello noi chiediamo insieme ai laboratori che devono essere fatti perché i ragazzi che hanno l'attestato di qualifica quest'anno come è possibile che un professore attesti che un ragazzo sappia cucinare sappia fare servizio di salo sappia fare accoglienza senza i laboratori e quindi un ragazzo che poi uscendo al quinto dovrà entrare nel mondo del lavoro non essendo capace su queste cose purtroppo verrà preso malo modo e quindi noi chiediamo questi laboratori perché sono fondamentali essendo un professionale in cui la nostra professione essendo quella vogliamo i laboratori e la palestra in questi due giorni siamo stati ritevuti dall'assessore dell'urbanistica regionale dal sindaco ai vari assessori da una dirigente della provincia purtroppo il Presidente non era presente avremo un incontro mi auguro presto quindi le chiacchiere però sono chiacchiere io finché non vedo i fatti noi continueremo con questa protesta che è un sit-in pacifico vogliono risposte e vogliono la certezza di non dover subire una scelta alla quale sono contrari sin dall'inizio e per rendere ancora più forte la loro richiesta annunciano una mobilitazione di massa che coinvolgerà anche altri istituti in programma per venerdì prossimo sono invitati tutti i cittadini di Pescara tutti i genitori tutti i professori tutti i presidi di tutte le varie istituzioni le scuole tutta la città di Pescara e tutti i comuni limitrofi che interessano appunto si interessano dell'alberghiero di Pescara sono invitati alla nostra manifestazione ripeto pacifica perché noi fino adesso vedendo anche qui in piazza non abbiamo fatto niente di male e quindi ogni giorno ci viene autorizzato dal questore a fare questa cosa perché noi facciamo tutto a livello legale non siamo qui per occupare solo pubblico ma siamo qui sotto autorizzazione del questore e cambiamo decisamente argomento l'Abruzzo conclude la sua partecipazione alla storica regata velica di Trieste a fare il resoconto della Cinque Giorni è stato l'assessore ai progetti speciali territoriali donato di Matteo ascoltiamo la Barcolana di Trieste si è conclusa con una grande soddisfazione da parte della regione l'obiettivo era quello di trasformare i 2000 metri quadri di villaggio Abruzzo in una grandissima vetrina commerciale visto che la storica regata attira 250.000 visitatori ogni anno visitatori che hanno affollato gli stand degli artigiani e produttori di casa nostra una presenza importantissima della regione molto interessante che ha avuto grandi riscontri sia per i residenti nell'Italia sia per quelli europei e extra europei siamo stati protagonisti abbiamo fatto 4-5 giorni di grande qualità con espositori di altissimo livello il riscontro è stato molto positivo ci aspettiamo un ritorno importante da questa iniziativa una manifestazione che ruota intorno ai contatti commerciali con la regione Friuli Venezia Giulia con la vicina Slovenia la Croazia e tutti i buyers giunti da ogni regione d'Italia se da un lato ad accorrere ci sono i più importanti velisti dall'altra la Barcolana si trasforma in un vero e proprio business al quale partecipano importanti aziende di ogni parte del mondo è importante far vedere le qualità di questa regione molti l'hanno apprezzato sia l'enogastronomia le attività artigianali i prodotti del nostro artigianato tipico i nostri territori l'appetibilità turistica per cui è un dato importantissimo quello che è stato rilevato da questa iniziativa secondo me vanno fatti dei programmi interventi dove noi siamo protagonisti e non marginali per cui facendo così probabilmente attrarremo un numero sempre più considerevole di visitatori verso la nostra regione promuovere il territorio e le eccellenze dell'Abruzzo con un viaggio all'interno delle aziende produttrici dei territori pescaresi protagonisti Turchia Regno Unito e Kazakistan il progetto è promosso dalla Camera di Commercio di Pescara ascoltiamo si chiama arte gusto l'iniziativa messa in campo dalla Camera di Commercio di Pescara che punta a stupire buyers provenienti dall'estero presentando le eccellenze del territorio con visite organizzate sui territori di produzione così da integrare l'aspetto commerciale con quello turistico i paesi oltre all'Italia ovviamente coinvolti sono il Kazakistan la Turchia il Regno Unito una grande opportunità per il nostro sistema economico per le nostre imprese un'opportunità che si rinnova perché arte gusto è la seconda edizione in cui la Camera di Commercio nuovamente si focalizza per dare un'occasione anche alla piccola impresa di conoscere da vicino e affrontare dei compratori internazionali tra l'altro quest'anno rispetto all'anno scorso avremo anche i tour operator quindi ci saranno compratori dei prodotti investitori e anche tour operator interessati a creare pacchetti su misura per i turisti di questi paesi ecco un connubio interessante tra turismo e produzione i paesi protagonisti del progetto rappresentano i cosiddetti mercati emergenti quelli in forte espansione quindi la Turchia diventa per questo grande scenarista uno dei paesi chiave per la crescita del business il Regno Unito è una certezza è un paese dove le nostre aziende già da molti anni operano è al tempo stesso però un paese che ha ancora bisogno dei nostri prodotti e poi il Kazakistan è davvero una sfida entusiasmante perché questi compratori e tour operator sono davvero appassionati d'Italia è un paese che ha anche lì degli indici di ricchezza molto alti e quindi anche persone in grado di comprare quello che viene definito il bello e ben fatto italiano lo sport di vivere il videomonologo di Carlo Nessi è stata l'occasione per portare a Loreto a Prutino le testimonianze dello spogliatoio dei ragazzi degli anni 70 della Juventus il tutto è nato da un progetto dei bambini della scuola primaria di Loreto a Prutino che hanno ideato il pallone di pezza esposto ora nello spazio log di Alessandro Del Piero a Loreto vediamo il servizio sport e vita vissuta questo in sintesi il riassunto del documentario monologo lo sport di vivere presentato sabato scorso a cura del giornalista Carlo Nessi a Loreto a Prutino l'essenza dello sport di vivere è infatti quella di raccontare emozioni e sentimenti attraverso gli eventi sportivi ed è proprio tramite parole immagini e musica che Nessi ha provato a unire insieme questi due aspetti nasce nasce così da una scommessa dimostrare che non soltanto con i libri con le poesie con i quadri con le sculture con le canzoni si possono esprimere i sentimenti gli stati d'animo della nostra esistenza ma anche con i personaggi e con i fatti dello sport l'occasione è stata anche il portare a Loreto a Prutino dove hanno raccontato la loro esperienza i ragazzi dello spogliatoio della Juventus degli anni 70 da Luciano Miani a Dario Tosetti da Beppi Pilon a Massimo Briaschi a Paolo Bordoni e altri ancora il tutto ha avuto origine dalla pallone di pezza ideato dai bambini della scuola primaria di Loreto a Prutino ed esposto a Torino all'Og di Alessandro Del Piero dove Renato Mariotti lo ha portato insieme ad altri oggetti del calcio del passato è un progetto che parte già da alcuni anni in quanto io come rappresentante della locale squadra di calcio l'SD Laureto come Luciano Miani come rappresentante del River 65 stiamo cercando di spiegare ai ragazzi quello che è il vero calcio perché il vero calcio non è quello che i bambini purtroppo oggi sono abituati a vedere in televisione o a guardare in televisione una manifestazione questa fortemente voluta dal sindaco di Loreto a Prutino Gabriele Starinieri e dalla sua amministrazione tutto è partito da qualcosa che nasce a scuola e che va a riguardare lo sport come scuola di vita e quindi i valori delle relazioni umane nello spogliatoio sono presenti tantissimi ragazzi bambini che frequentano tutti i settori giovanili di ogni sport servizio che ci fa aprire la pagina sportiva allenamento pomeridiano per il Pescara sempre fermi Bunosa e Mignanelli hanno lavorato a parte Fornassier Sansovini e Bruno lavoro differenziato invece per Zampano piccola tegola per Memushai che giocando con la sua nazionale ha riportato una distrazione muscolare e sarà fuori per almeno una settimana ma al centro dell'attenzione per le sue prestazioni ancora senza marcature oggi ha parlato il centravanti del Pescara Andrea Cocco ascoltiamo Poi per quanto riguarda il gol sicuramente mi manca non è una cosa che nego perché comunque sia attaccante vive di questo però sono anche abbastanza tranquillo sotto questo punto di vista l'anno scorso dopo dieci presenze ne avevo fatto due quest'anno sono a sei presenze ne ho fatto zero quindi sicuramente ci sono più immagini di miglianamento sul fatto del gesto con Gianluca ovviamente noi ci siamo messi a ridere perché sono cose che in campo capitano tantissime volte ovviamente adesso avete beccato il momento dove la cosa era stata plateare ma io e Gianluca abbiamo un bellissimo rapporto andiamo d'accordissimo non c'è nessun tipo di problema perché lui mi ha detto anche di un articolo che è uscito ieri su un brutto rapporto tra me e lui e vi posso assicurare che non c'è anzi andiamo veramente d'accordo quando uno come me non sta benissimo fisicamente si vede e si nota e sicuramente ti manca quella gamma in più che ti può permettere di fare con maggior rapidità il movimento giusto e poi sicuramente quando non è la gamma giusta anche la testa è un po' nerisente quindi sono tutte non dico che siano attenuanti ma sicuramente sono aspetti che inizio anno mi mancavano ora sicuramente sta un po' meglio e spero di trovare il gol subito ringrazio il ministro per queste parole io ho sempre pensato alla squadra che una mia giocata o un mio gol facesse bene alla squadra facesse vincere le partite alla squadra non ho mai pensato a me stesso come singolo quindi questa è una cosa che ho sempre fatto negli anni ho sempre pensato più alla squadra che al singolo quindi per me il gol può anche non arrivare nel senso tra virgolette mi farà di piacere di dare una gioia comunque sia ai tifosi e alla squadra però se vinciamo lo stesso con la mia giocata o con un movimento per me va bene uguale la scelta l'ho fatta io alla fine quindi io sono felice di stare a Pescara perché sicuramente è una società importante mi dispiace non dare delle gioie sotto il punto di vista del gol ai tifosi e sicuramente anche al mister e al presidente che hanno molta fiducia in me però lavorerò per questo spero che arrivano presto i gol la Virtus Lanciano prepara il match di sabato prossimo con il Como Piccolo è tornato in gruppo e sarà a disposizione ieri differenziato per Padovan e Amenta intanto il tecnico da Versa torna sulla gara di Bari e sul momento della sua squadra ascoltiamolo torniamo sicuramente non entusiasti per il risultato però considerando il valore dell'avversario e considerando la prestazione che abbiamo fatto dobbiamo essere comunque pensare positivi partire dal fatto che comunque abbiamo messo abbiamo fatto una partita diciamo la pari contro una squadra fortissima creata magari per vincere il campionato dove la differenza l'ha fatta una giocata del singolo ma devo dire sotto l'aspetto dell'arco di 90 minuti 93 minuti compreso il recupero credo che comunque sia stato un risultato aperto fino alla fine dove potremmo fare qualcosa di più secondo me con la Provercelli e con Modena però credo che l'obiettivo iniziale di quest'anno sia ben chiaro perché è sempre dall'aspettativa che se uno si aspetta di rifare gli ultimi due campionati è chiaro che i malumori ci saranno per tutto l'arco del campionato sabato viene una squadra che è il Como che comunque ha il nostro stesso obiettivo sicuramente non sarà una partita facile faremo dobbiamo fare di tutto per cercare di vincere per cercare di raggiungere la posizione di classifica un po' più tranquilla ma lo dico oggi per non ridirlo poi in futuro se pensiamo ancora di fare paragone con i due anni passati siamo fuori binario prova gagliarda ma sfortunata del Teramo che non va oltre l'1 a 1 con il Pisa nella gara di recupero della seconda giornata di campionato al gol fulminio del Pisa con Verna risposto per Rotta e nel finale Paolo Di Petrella Andrea Costantini un buon Teramo non riesce a sfondare il bunker del Pisa e deve accontentarsi di un pareggio l'1 a 1 del Bonolis nella gara di recupero della seconda giornata permette al Pisa di Ringhio Gattuso di restare imbattuto e fare un piccolo passo verso la vetta occupata dalla Spal ma soprattutto non rende giustizia la prestazione generosa e costante dei biancorossi frenati dalla malasorte o se vogliamo dagli episodi come previsto Vivarini rilancia Petrella in coppia con Moreo e preferisce ancora Cecchini a Dorazio Gattuso inserisce Sanseverino cambia modulo e opta per un 3-5-2 a specchio Ciani e Lores Varela in attacco pioggia leggera e costante si gioca da subito con l'illuminazione artificiale e l'avvio sorride al Pisa perché al sesto il tocco sporco di Ciani su cross di Mannini spiazza la difesa terramana e per l'ex Lanciano Echieti Luca Verna è un gioco da ragazzi mandare in vantaggio i suoi il terramo però non demorde e macina gioco al dodicesimo Lairone Moreo altra bella prova si fionda sull'errore di Lisuzzo ma in precario equilibrio non c'entra la porta ancora Moreo dalla distanza Bacci usa i pugni preludio al gol del pari ventiquattresimo piazzato di Amadeo difesa pisana poco reattiva per rotta in corna sul secondo palo e pesca l'angolo opposto è uno a uno col primo gol stagionale per Marco Perrotta che già aveva giustiziato Bacci lo scorso anno quando l'estremo era al tutto cuoio i biancorossi continuano a macinare gioco ma la fase difensiva pisana tiene bene gara ancora più viva nella ripresa clamorose le due opportunità nei primi cinque minuti corner di Amadeo battuta ravvicinata di Scipioni e Bacci si salva distinto ancora angolo di Amadeo dalla parte opposta tacco volante splendido di Moreo ma Ricci salva sulla linea giocata geniale delle centravanti meritava miglior sorte il Pisa raramente riparte ci riesce all'undicesimo Tonti allora si distende sul tiro di San Severino Vivarini inserisce da Silva per Calvano porta Petrella sulla linea dei centrocampisti Teramo molto offensivo e che tiene fisicamente nonostante gli sforzi già profusi Bacci interviene a mano aperta sulla sventura di Amadeo alla mezz'ora per poco non ci scappa la beffa su una respinta della difesa Ricci calibra una staffilata che coglie la base del palo anche se Tonti era sulla traiettoria il Teramo spinge fino alla fine ed ha la grande chance al novantesimo pregevole triangolo Petrella da Silva il tiro di Petrella è sporco ma scavalca Bacci il palo dice no e ricaccia indietro l'urlo del Bonolis un peccato il risultato pieno non arriva ma la squadra è in evidente crescita mister diciamo subito peccato in termini meritavi tre punti sì sono molto arrabbiato sono molto arrabbiato perché non ci gira a livello proprio di io non credo nella fortuna perché dobbiamo essere sempre più bravi però in qualche episodio ci poteva essere un po' a favore nostro invece ancora una volta grandissima partita io devo fare i complimenti alla squadra perché sta diventando un bel gruppo è una squadra che lavora molto bene che ci tiene è ripreso uno spirito importante che è lo spirito che piaceva a noi a Teramo quindi adesso dobbiamo continuare su questa strada migliorare ancora perché abbiamo le potenzialità per crescere e per fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto oggi comunque oggi c'è veramente poco da dire alla squadra mister intanto è contento della prestazione del suo Pisa di questo punto? sì siamo contenti abbiamo sofferto tanto lo sapevamo sapevamo che venivamo qua Teramo è una buona squadra una squadra che è una delle più forti squadra costruita bene giocatori bravi tecnicamente sapevamo che ci potrà mettere in difficoltà abbiamo ci mancano tanti giocatori importanti però chi scende in campo scende sempre con con la testa giusta devo dire che sono molto contento sorteggiati a Nyon i quattro gironi dell'elite round di UEFA Futsal Cup il Pescara che al Pala Giovanni Paolo II ospiterà tra il 10 e il 15 novembre uno dei quattro gironi è stato inserito nel gruppo B assieme alla squadra acazaca a testa di serie del Tulpar ai belgi dell'Alegoic e ai macedoni dello Scopie e con il 2 a 0 inflitto alla Lazio l'acqua e sapone Emegross ha centrato la prima vittoria in campionato nel prossimo turno difficile trasferta sul campo della capolista Corigliano il servizio dopo due pareggi è arrivato il primo sorriso pieno per l'acqua e sapone Emegross con il 2 a 0 ai danni della Lazio partita scorbutica ma sempre comandata dalla squadra di Massimiliano Bellarte che ha dovuto fare i conti con l'atteggiamento quasi rinunciatario del quintetto ospite il giropalla e la capacità di attendere il momento giusto per colpire hanno premiato alla fine l'acqua e sapone il vantaggio dopo quasi 5 minuti di primo tempo con Coco Schmidt l'1 a 0 di Nerazzurri non ha mutato il cliché della partita iniziateva sempre in mano all'acqua e sapone e l'azio mai pericolosa dalle parti di Mammarella la resistenza ospite cede per la seconda volta al 14esimo della ripresa assist di Sidney per la zampata di Burrito inutile poi il forse in finale dei laziali con il portiere di movimento il quintetto capitolino resta in fondo alla classifica l'acqua e sapone sale a 5 punti e può preparare al meglio la trasferta sul campo della capolista Corigliano partita dopo partita comunque i frutti saranno sempre maggiori perché credo che ci sarà feeling tra di loro ognuno conoscerà quali sono le caratteristiche peculiari degli altri quindi riuscirà a sfruttarle così come tutti si sentiranno magari sicuri di fare uno contro uno perché c'è gente che dà copertura quindi piano piano si arriverà anche a quella linearità offensiva che che sta crescendo quello che mi che mi consola è il fatto che oggi non abbiamo preso gol che Mammarella ha fatto parate ordinarie tranne uno una mentre l'anno scorso queste partite di sicuro avevano preso gol e Mammarella avrebbe fatto lo straordinario quindi questo mi consola e questo mi dà forza e ieri si è giocato il recupero di campionato tra Pescara e Latina Biancazzurri corsari in terra laziale la vittoria per 4 a 3 lancia la squadra di Colini al secondo posto in classifica ed è tutto per questa seconda edizione l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento Grazie a tutti